Allora, tutti e conci qui per il solito video post partita. Sarà molto breve perché comunque è una partita ormai a fine campionato in quanto lo scudetto è stato vinto, però qualche parola devo dirla. Ampio turnover per due motivi semplicissimi. Il primo è che c'erano molti difidati e quindi poi espulsi che dovevano saltare questa partita nelle file della Juventus. Qualche infortunio, ad esempio, che dire. ma soprattutto ampio turnover in vista anche di impegni più importanti come la finale del 21 di Coppa Italia per preservare fisicamente i giocatori emergenti, quelli più importanti insomma un appello, cioè non toglie il fatto che la Juventus doveva comunque portare in campo un atteggiamento migliore che non si è visto, questo non andò per questione di risultato, si poteva anche perdere ma perché l'atteggiamento importante è importante al fine di un obiettivo da raggiungere quella della Coppa Italia soprattutto i giocatori che giocano bene e che quindi hanno tanto da dimostrare per confermare il loro posto prossimo anno piuttosto che essere oggetto di movimenti di mercato non mi è piaciuto l'atteggiamento da parte di alcuni che hanno giocato con molta superpecialità anche quelli là titolari, ad esempio Bonucci non ha fatto una grande partita errori un po' stupidi che ovviamente a lungo termine e soprattutto in partiti importanti possono essere determinanti in alcune situazioni detto questo non importa, lo scudetto l'ha già stato vinto quindi mi sarei aspettato soprattutto in una partita in trasferta e non quella magari in casa nel prossimo weekend un atteggiamento simile anche quindi da aspettarselo detto questo vorrei quindi non parlare tanto della partita perché comunque non c'è tanto da dire abbiamo fatto un gol sul rigore al 93esimo quindi abbiamo fatto poco o niente i giocatori sufficienti potrei dire quali sono Neto che ha fatto anche una parata ha comunque fatto ordinare l'amministrazione e non ha avuto colpe sui gol nella difesa salvo solo Barzagli e Rugani più Barzagli che Rugani con Bonucci che non lo salvo al centro campo salvo solo Assamoa e Quadrado e al resto non li salvo proprio e davanti Zaza per comunque la voglia di fare che si vede anche se comunque ha dei limiti secondo me alcuni limiti che deve ancora crescere dal punto di vista tecnico-tattico e Di Bala che comunque ha trattato il rigore vabbè alla fine ha fatto vedere anche qualche cosa interessante però comunque ci si aspetta di più in una partita che può essere determinante per un obiettivo importante voglio spendere qualche parola in più invece su un fatto importante che è avvenuto ieri perché lo carico oggi quindi ieri l'addio al calcio ritiro di Luca Toni voglio spendere due parole per lui perché comunque è un giocatore che merita due parole in più in un video comunque che parla di una partita di calcio Luca Toni è uno di quei giocatori che ci ha portato a vincere un mondiale è uno dei protagonisti del mondiale 2006 in Germania è un giocatore che non è definibile come una bandiera perché ha cambiato una decina di squadre non so forse anche di più è venuto anche da Juventus ha giocato con la Roma, con la Fiorentina con l'Elas Verona ha giocato in Germania col Bayern Monaco e altri ancora col Triviso Calcio tra l'altro di dove sono io se me lo ricordo e qui ha giocato con una media di squadre ma ha sempre saputo farsi apprezzare come calciatore perché è comunque un campione del mondo un giocatore che ha fatto 324 gol in carriera quindi un numero di 300 vuol dire che sei un attaccante fortissimo ma soprattutto un grande uomo che è sempre distinto appunto per l'apprezzamento 360 gradi da parte di tutti i tifosi anche pur non essendo appunto una bandiera e quindi non facendo parte di quei giocatori che creano attorno a loro un alone di nostalgia insomma e di apprezzamento appunto per la fedeltà alla maglia tuttavia è stato un giocatore che per quanto abbia giocato le squadre ha sempre fatto il suo è stato molto bravo e molto capace Tony poi ha avuto anche una brutta esperienza a livello umano suo mi ricordo quando ha perso la sua moglie insomma il suo compagno ha perso un figlio quindi credo che abbia trovato anche lui nel calcio qualcosa di uno stimolo importante per superare le difficoltà e sembra dimostrato appunto di essere un esempio in campo e fuori secondo me per proprio l'attesamento ma è una parola fuori posto un giocatore che secondo me è sembritato al 100% la carriera che ha fatto vincendo di tutto e di più quindi insomma un ringraziamento all'uomo è il campione che Luca Tony è stato sperando che nel futuro venga fuori soprattutto per l'Italia nazionale visto che adesso si avvicinano gli europei un numero 9 come è stato Luca Tony forse Luca Tony è uno degli ultimi numeri 9 in quel ruolo quindi insomma dopo Inzaghi Trezeghe ormai sono tutti andati via adesso gli attaccanti sono tutti molto più mobili perché il calcio si è modificato nel tempo e Luca Tony forse è uno degli ultimi grandi numeri 9 della storia del calcio per come l'abbiamo vissuto almeno negli ultimi 20 anni ecco quindi concludo il video 2-1 quindi per la Ressa Verona noi domenica prossima sabato prossimo scusate abbiamo l'ultima partita in casa il 38esimo di campionato Juventus Sampdoria poi c'è la festa Scudetto che non potrà vedere con la partita purtroppo cioè non tanto per la partita ma per insomma il festeggiamento e tutto quanto mi guarderò insomma i video in streaming che ricaricano i vari superfly i videomaker e quant'altro ci vediamo al prossimo video che sarà un video extra attenzione che sarà giovedì o venerdì adesso vedo quale dei due giorni e sarà un video extra che è già stato un po' spoilerato con una pic in pagina qualche giorno fa questo quindi è l'ultimo vlog di questo campionato di Serie A l'ultimo vlog poi di tutta la stagione sarà quello dopo la Coppa Italia e quindi ci vediamo al prossimo video ciao